Lutto ad Arezzo per la scomparsa improvvisa dell'avvocato Antonio Bonacci aveva 61 anni, noto avvocato aretino alla guida anche della Camera Penale di Arezzo. Bonacci ha avuto un valore nel suo studio dopo l'ora di pranzo e immediata la corsa al pronto soccorso aretino, ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. È stato uno degli avvocati di punta del foro aretino e il suo nome è legato alle vicende più importanti dal punto di vista giudiziario di questa città. Dal processo su Variantopoli alla vicenda Eutelia con la famiglia Alandi fino ai procedimenti più recenti, alcuni di questi ancora aperti riguardanti il crack di Banca Etruria. Noi lo vogliamo ricordare così in una delle ultime interviste raccolte dalla collega Chiara Sadotti dove viene fuori tutta la sua profonda ironia. Ruoli diversi anche all'interno di questa cabina ombra o comunque di tutto ciò che può aver portato all'issesto? Cabina ombra? Una cabina di regia? No, non mi pare che si parli di cabine di regia assolutamente, no, fa solo rilievi in ordine all'accertamento dell'assolvibilità del prenditore dei finanziamenti, in ordine alle garanzie, cioè rilievi tecnici, non di cabine ombra. Questo proprio francamente è un'espressione che non è stata nemmeno usata dai pubblici ministeri. Antonio Bonacci lascia la moglie ed un figlio.